La vera tristezza non è quando la sera non sei atteso da nessuno al tuo rientro in casa, ma quando tu non attendi più nulla dalla vita. E la solitudine più nera la soffri, non quando trovi il focolare spento, ma quando non lo vuoi accendere più, neppure per un eventuale ospite di passaggio, quando pensi, insomma, che per te la musica è finita, e ormai i giochi siano fatti, e nessun'anima viva verrà a bussare alla tua porta, e non ci saranno più né soprassalti di gioia per una buona notizia, né trasalimenti di stupore per un'improvvisata, e neppure fremiti di dolore per una tragedia umana, tanto non ti resta più nessuno per il quale tu debba temere. La vita allora scorre piatta verso un epilogo che non arriva mai, come un nastro magnetico che ha finito troppo presto una canzone, e si srotola interminabile, senza dire più nulla, verso il suo ultimo stacco. Attendere, ovvero sperimentare il gusto di vivere. Hanno detto addirittura che la santità di una persona si commisura dallo spessore delle sue attese. Forse è vero. Se è così, bisogna concludere che Maria è la più santa delle creature, proprio perché tutta la sua vita appare cadenzata dai ritmi gaudiosi di chi aspetta qualcuno. Già, il contrassegno iniziale con cui il pennello di Luca la identifica è carico di attese. Promessa, sposa di un uomo della casa di Davide. Fidanzata, cioè, a nessuno sfugge a quale emesse di speranze e di batticuori faccia allusione quella parola che ogni donna sperimenta come preludio di misteriose tenerezze. Prima ancora che nel Vangelo venga pronunciato il suo nome, di Maria, si dice che era fidanzata, vergine in attesa, in attesa di Giuseppe, in nascolto del frusciare dei suoi sandali, sul far della sera, quando profumato di legna e di vernici, egli sarebbe venuto a parlarle dei suoi sogni. Ma anche nell'ultimo fotogramma con cui Maria si conceda dalle scritture, essa viene colta dall'obiettivo nell'atteggiamento dell'attesa. Lì, nel cenacolo, al piano superiore, in compagnia dei discepoli, in attesa dello spirito, in nascolto del frusciare della sua ala sul fare del giorno, quando profumato di unzioni e di santità, egli sarebbe disceso sulla chiesa per additarle la sua missione di salvezza. Vergine in attesa all'inizio, madre in attesa alla fine, e nell'arcata, sorretta da queste due trepidazioni, una così umana e l'altra così divina, cento altre attese struggenti. L'attesa di lui, per nove lunghissimi mesi, l'attesa di adempimenti legali festeggiati con frustoli di povertà e gaudi di parentele. L'attesa del giorno, l'unico che lei avrebbe voluto di volta in volta rimandare, in cui suo figlio sarebbe uscito di casa senza farvi ritorno mai più. L'attesa dell'ora, l'unica per la quale non avrebbe saputo frenare l'impazienza e di cui prima del tempo avrebbe fatto traboccare il carico di grazia sulla mensa degli uomini. L'attesa dell'ultimo rantolo dell'unigenito inchiodato sul legno. L'attesa del terzo giorno vissuta in veglia solitaria davanti alla roccia. Attendere, infinito del verbo amare, anzi, è il vocabolario di Maria, amare all'infinito. Santa Maria, vergine dell'attesa, donaci del tuo olio perché le nostre lampade si spengono. Vedi, le riserve si sono consumate, non ci mandare ad altri venditori. Riaccendi nelle nostre anime gli antichi fervori che ci bruciavano dentro quando bastavo non nulla per farci trasalire di gioia. L'arrivo di un amico lontano, il rosso di sera dopo un temporale, il crepitare del ceppo che d'inverno sorvegliava rientri in casa, le campane a storno nei giorni di festa, il sovraggiungere delle rondini in primavera, l'acre odore che si sprigionava dalla stretta dei frantoi, le cantilene autunnali che giungevano dai palmenti, l'incurvarsi tenero e misterioso del grembo materno, il profumo di spigo che rompeva quando si preparava una culla. Se oggi non sappiamo attendere più è perché siamo a corto di speranza. Se ne sono disseccate le sorgenti, soffriamo una profonda crisi di desiderio. E ormai paghi dei mille surrogati che ci assediano, rischiamo di non aspettarci più nulla da quelle promesse oltraterrene che sono state firmate col sangue dal Dio dell'alleanza. Santa Maria, donna dell'attesa, con forte dolore delle madri per i loro figli, che usciti un giorno di casa non ci sono tornati mai più. Perché uccisi da un incidente stradale o perché sedotti dai richiami della giungla? Perché dispersi dalla furia della guerra o perché risucchiati dal turbine delle passioni? Perché travolti dalla tempesta del mare o perché travolti dalle tempeste della vita? Riempi i silenzi di Antonella, che non sa che farsene dei suoi giovani, dopo che lui se ne è andato con un'altra. Colma di pace il vuoto interiore di Massimo, che nella vita le ha sbagliate tutte, e l'unica attesa che ora lo lusinga è quella della morte. Asciuga le lacrime di Patrizia, che ha coltivato tanti sogni a occhi aperti, e per la cattiveria della gente se li ha visti così svanire a uno a uno, che ormai teme anche di sognare a occhi chiusi. Santa Maria, Vergine dell'attesa, donaci un'anima vigiliare. Giunti alle soglie del terzo millennio, ci sentiamo purtroppo più figli del crepuscolo che profeti dell'avvento. Sentinella del mattino, ritestaci nel cuore la passione di giovani annunci da portare al mondo, che si sente già vecchio. Portaci finalmente, arpa eccetera, perché con te, mattiniera, possiamo svegliare l'aurora, di fronte ai campi che scuotono la storia. Donaci di sentire sulla pelle i brividi dei cominciamenti. Facci capire che non basta accogliere, bisogna attendere. Accogliere talvolta è segno di rassegnazione. Attendere è sempre segno di speranza. Rendici perciò, ministri dell'attesa, e il Signore che viene, Vergine dell'avvento, ci sorprenda anche per la tua materna complicità con la lampada in mano.